ciao a tutti e bentornati al mio canale se non vi siete iscritti ancora fatelo ora oggi durante questo video andremo a vedere conoscere un po meglio l'olio essenziale di origano quindi se vuoi sapere che cosa fare cosa non fare come usare come non usare l'olio di origano resta connesso ok allora l'olio di origano è conosciuto ed è noto molto come ingrediente in cucina ma oggi voglio parlarvi di dieci modi come l'olio di origano può aiutare e supportare il nostro corpo spesso siamo molto cauti con quest'olio e perfino spaventati a volte perché perché quest'olio è uno degli oli caldi ok caldi che cosa vuol dire che se utilizzato puro quindi soprattutto se utilizziamo un olio di alta qualità e se lo utilizziamo puro quindi che vuol dire da solo senza aggiunta di altri oli che possano accompagnarlo sicuramente avremo una reazione la pelle reagirà e quindi non sarà molto sensibile a questa a quest'olio da solo puro quindi stiamo attenti ecco perché è importante accompagnarlo con un olio vettore io uso l'olio di cocco frazionato proprio per non creare nessun problema con questi oli caldi e quindi anche lo con l'origano è molto utile anche utilizzare l'olio di origano anzi tutti gli oli soprattutto l'olio di origano sotto i piedi proprio perché sotto i piedi abbiamo meno sensibilità la pelle assorbe benissimo ma è meno sensibile di altri posti del nostro corpo ecco perché è utile utilizzarlo sotto i piedi vorrei aprire una parentesi sugli oli vettori gli oli vettori spesso sentiamo dire che un olio vettore quello che diluisce l'olio essenziale non è questa cosa non è completamente come posso dire vera in quanto l'olio vettore si accompagna possiamo dire che accompagna l'olio essenziale lenisce l'effetto dell'olio essenziale sulla pelle ma non lo diluisce perché in realtà l'olio essenziale resta di per sé potente ok e nel caso di oli caldi come l'olio essenziale di origano è molto ma molto importante utilizzare un olio vettore io utilizzo appunto l'olio di cocco frazionato della do terra che cosa significa frazionato vuol dire che viene sottoposto ad un frazionamento che è un processo che attraverso il quale vengono rimossi dall'olio di cocco i componenti specifici che lo rendono solido a temperatura ambiente attraverso appunto questo processo che si chiama frazionamento non è chimico un processo naturale avremo però un olio sempre costantemente liquido che sarà un olio resterà liquido a qualsiasi temperatura la sua consistenza sarà molto leggera non è grassa questo olio è meraviglioso infatti questo è il mio olio che utilizzo sempre per accompagnare l'olio essenziale ed è un'ottima base questo olio frazionato di cocco per tutti i prodotti per la cura del benessere quindi è veramente incredibile l'olio di cocco frazionato ovviamente della della doterra poi non viene aggiunto non viene torto nulla dall'olio di cocco quindi è anche interessante inoltre è stato fatto sempre legato al processo il frazionamento quest'olio rimane a qualsiasi temperatura abbiamo già detto liquido e non va non rancidisce né col caldo né col freddo quindi è veramente interessante quest'olio di cocco della doterra ci sono diversi oli essenziali scusate oli vettori ci sono l'olio di cocco ci abbiamo l'olio di jojoba l'olio di argano l'olio di mandorle veramente ce ne sono tantissime anche l'olio d'oliva perché no ma spesso se succede qualcosa in cucina e abbiamo portata di mano l'olio della cucina utilizziamo anche quello importante che un olio vettore sia un olio vegetale quindi invece di andare a cercare dove l'olio di cocco eccetera possiamo utilizzare benissimamente tranquillamente anche l'olio di cucina per esempio nel caso di scottatura no ci bruciamo l'olio di lavanda sarà sempre portata mano in cucina ricordatelo e dell'olio di cucina può aiutare a lenire la pelle con l'olio di lavanda anzi lo accompagnerà ed è fantastico questo come come quantità se utilizziamo l'olio di origano quindi un olio caldo con un olio vettore in questo caso l'olio di cocco frazionato io direi sempre che l'olio vettore deve essere la doppia quantità dell'olio essenziale vi faccio un esempio due gocce di olio di origano ne mettiamo quattro di olio vettore ok ricordate questo raddoppiare la quantità di olio vettore per l'olio caldo che viene utilizzato ok allora io dico sempre se siete all'inizio dell'uso dell'olio di origano fatelo sempre sotto i piedi poi man mano vedrete e vi abituerete all'uso dell'olio di origano però sempre provate prima sotto i piedi cominciamo dieci modi per utilizzare l'olio di origano il primo è la pulizia l'olio essenziale di origano è veramente il migliore per eliminare microorganismi potete usarlo a casa su tutte le superfici e nell'aria in una bottiglia spray con l'acqua agitate prima sempre voi sapete che l'acqua e l'origano c'è l'olio non si non si assorno si rispingono quindi provate però prima su una piccola parte della superficie per evitare che si decolori o si scolorisca possiamo utilizzarlo anche sulle mani per eliminare germi e micro microbi ecco in che modo vi do adesso le dosi dieci gocce e dieci gocce di olio di origano in due cucchiai da cucina di olio di cocco ok l'importante ricordate sempre che l'olio di origano è un olio caldo da miscelare con un olio vettore questo ve lo ripeterò più volte durante il video perché veramente dovete ricordare questa è la cosa più importante dovete ricordare nel video punto 2 supporta e libera i seni nasali soprattutto in inverno si comincia ad avere quei primi starnuti o primi pruriti solletico nel naso dobbiamo possiamo utilizzarlo diffondendolo nell'aria vi spiego come fare diffusore ad ultrasuoni si mettono da 3 a quattro gocce nel diffusore si riempie d'acqua fino all'orlo comunque fino al segno che c'è nel diffusore e si aziona nell'aria se l'origano è troppo forte come aroma da solo potete aggiungere altri un altro olio che che insieme può fare l'aroma preferita che voi preferite quindi ancora più buono anche potete fare un'altra cosa fare dei dei fumenti sapete rimedi vecchi della nonna mettete una pentola d'acqua a bollire quando comincia a bollire vedete le prime bollicine spegnete il fuoco la lasciate lì aggiungete veramente poco di olio essenziale forse una goccia di olio di origano e fate i fumenti non vi avvicinate troppo all'acqua perché anche se l'acqua non è troppo calda i vapore dell'olio possono essere troppo forti quindi attenzione sempre più lontano poi man mano vi avvicinate e questo è fantastico per supportare e liberare i segni nasali ok se lo volete usare diluito scusate per uso topico sempre diluito ve lo ripeto ancora ok occhio alla diluizione ok questo potesse essere potrebbe essere sotto il naso però veramente diluito tanto punto 3 terzo modo la pelle secca forse non lo sapevate ma per la se per la pelle secca e lori l'origano è veramente meraviglioso ed può essere utilizzato con le mani sulle mani come dicevo prima ma anche sulla testa quindi sul cuoio capelluto ovunque come usarlo dipende da dove lo utilizzate quindi facciamo un esempio su cuoio capelluto potete aggiungere due gocce di olio d'origano nel vostro shampoo ok e poi procedete allo shampoo oppure nell'olio di cocco sempre due gocce e massaggiare la testa prima di fare la doccia prima di lavare i capelli ma continuo a ripeterlo cosa ripeto che l'origano è un olio caldo quindi l'acqua lo renderà ancora più caldo proprio per il fattore che vi dicevo prima perché acqua e olio si respingono e non si miscelano ok quindi fate attenzione ma molta attenzione se vi avvicinate all'olio d'origano e vi ripeto per iniziare usatene davvero pochissimo che è molto poco e poi vi abituate e vedrete voi quanto utilizzarle anche nella lozione del corpo lozione o crema corpo potete sempre per la questione della pelle secca potete utilizzare qualche goccia ma pochissimo nella crema e nella lozione per il corpo piuttosto se avete delle verruche è fantastico puro però veramente dovete stare ma pochissimo quattro volte al giorno è meglio vi dico una chicca se aggiungete anche un po di on guard attenzione che entrambe la miscela on guard e l'olio di origano sono veramente caldi quindi attenzione alla diluizione quarto modo per utilizzare l'origano forse non sapevate nemmeno questo ma gli insetti insetti di solito non amano l'aroma nell'origano e potete utilizzarlo in uno spray con dell'acqua potete spruzzarlo sul vostro corpo quindi anche sull'abito sugli abiti se siete a contatto appunto della natura e oppure diluito con sul corpo con abbastanza olio vettore prima appunto di uscire e di recarvi in questi posti aperti potrebbe essere anche per quanto riguarda gli insetti pensate anche una persona che entra in una casa già arredata quindi con divani letti materassi cuscini già utilizzati certo io butterei tutto però chi non può e tiene queste cose andrei a spruzzare appunto con dell'acqua e origano spruzzare bene su questi su questi materiali quindi su questi tessuti e e questo potrebbe appunto andare a scacciare eventuali insetti e acari eccetera che sono su cuscini eccetera cui anche una piccola chicca aggiungete anche un po di menta con l'origano che sarebbe sarà meraviglioso quinto modo imperfezioni cutanee cosa come lo facciamo come trattiamo l'imperfezione basta pagnare la punta del cotton fioc nell'olio di origano ok e applicarlo direttamente sulla macchia sull'imperfezione sul sul inestetismo della pelle ok quindi proprio lì dopo aver lavato il viso andiamo a mettere quel cotton fioc bagnato con l'olio di origano proprio sulla macchia o sul sul posto quello al mattina e alla sera dopo aver lavato il viso ok e per i nostri teenagers questa è una soluzione importante scusate è una soluzione da da suggerire loro se la pelle il sensi è molto sensibile dei nostri adolescenti prepariamo sempre un po di otteniamo sempre un po di olio vettore a portata di mano possiamo applicarlo se appunto avvisano questo fastidio punto 6 l'alito cattivo ma direte come come fa ebbene insieme al dentifricio possiamo utilizzarlo e possiamo fare degli sciacqui ovviamente la bocca non odorerà di menta ma di origano ma lo scopo è poi sarà raggiunto perché come abbiamo detto prima va a cidere ad eliminare i microorganismi che causano l'alito cattivo ok diamo al punto 7 rallenta l'ossidazione qui più rallentiamo e l'ossidazione il nostro corpo è meglio è per la nostra salute immaginate una bici lasciata sotto la pioggia arriva la ruggine no oppure una mela tagliata a metà se non la mangi subito diventa marrone ok quello è il processo dell'ossidazione e nel nostro corpo le cellule nel nostro corpo sono soggetti anche a questo processo vengono ossidate l'ossigeno cosa fa le brucia e le sottopone a dei cambiamenti chimici ecco che cosa fa l'origano l'origano rallenta questi processi questo processo di ossidazione è buonissimo per tutti noi e se non vogliamo che la nostra casa odori di pizza dappertutto ricordate potete aggiungere un altro olio in diffusione per avere l'aroma che volete che desiderate meglio e possiamo addirittura se non volete diffondere usare due gocce e uso interno quindi metterlo in una capsula e in ingoiarlo sto correndo un po perché il tempo scorre andiamo al punto 8 e l'origano è un ottimo supporto per il nostro sistema immunitario è uno strumento fantastico per rafforzare il sistema immunitario come ho detto prima l'orio di essenziale di origano è utile per eliminare i microorganismi e il nostro corpo è sempre in lotta lotta continua per trovare il giusto equilibrio nel cercare i microorganismi buoni da quelli che invece sono nocive quelli che non sono buoni per noi anche una cosa semplicissima toccare una mania di una porta piuttosto il nostro cellulare il nostro cellulare sarà pieno di microbi ok quindi l'origano andrà a darci una mano possiamo diffonderlo o metterlo sotto i piedi puro o diluito vi ho già spiegato quindi io direi sempre diluito ogni sera prima di andare a letto con aggiunta di altri oli per avere un aroma appunto che gradite nonno modo per utilizzare l'origano è per i dolori muscolari sapevate nel caso in cui avete usato comunque sforzato troppo un muscolo o avete solo una sensazione continua magari che avvertite da diverso tempo ad un muscolo l'olio di origano andrà ad aiutare le giunture andare a sollievo dare sollievo alle ai muscoli quindi ricordate sempre di applicarlo diluito anche per questo scopo direttamente nella zona interessata mattina e sera prima di dormire sempre un paio di gocce in un cucchiaio di olio vettore ricordate la dose raddoppiate l'olio di vettore in base all'olio di essenziale che utilizzate punto ultimo le contrazioni uterine durante il ciclo mestruale e questo a me a voi me scusate donne a me la vostra attenzione è incredibile perché questo può interessarvi perché noi possiamo utilizzare l'olio di origano in previsione in previsione del del ciclo quindi possiamo usarlo preventivamente quando sappiamo che il ciclo è in arrivo come possiamo applicarlo diluito assolutamente diluito sul basso ventre a schiena bassa e rilassatevi ok quindi utilizzato per uso topico se la vostra pelle è sensibile nonostante avete abbiato già diluito l'olio essenziale applicatelo sotto i piedi dove sappiamo che siamo più sicuri ok l'olio essenziale di origano è fantastico se avete esitato ad usarlo fino adesso in passato spero che ora possiate usarlo e prendere tutti i benefici di quest'olio meraviglioso se questo video ti è piaciuto clicca mi piace condividetelo anche a chi con chi volete che pensate abbia bisogno di sapere queste cose se avete abitudini nuove come utilizzare idee nuove su come utilizzare l'olio essenziale di origano fatemelo sapere condividete commentate mi raccomando se non sei iscritta ancora al gruppo scusate al al mio canale su youtube fatelo subito potete anche trovarmi inoltre su facebook su un gruppo che è chiamato oli essenziali che meraviglia infine volevo aggiungere solo un'ultima cosa se volete sapere qualcosa di più come ordinare questi oli essenziali e come magari anche iniziare un business contattatemi subito e sarò contenta di aiutarvi un abbraccio buona serata e ci vediamo alla prossima ciao ciao